Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di Nove Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormorrarono, è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore Un'altra pagina straordinaria solo del Vangelo di Luca. Tutti i Vangeli sono racconto degli incontri di Gesù. La nostra vita è fatta di incontri, incontri belli e a volte anche meno belli, ma sono gli incontri belli e significativi che ci cambiano la vita. Siamo noi, siamo il frutto dei nostri incontri e la fede è un incontro, è l'incontro con Gesù. E qui si racconta di questo incontro fra Gesù e Zaccheo. Siamo a Gerico, la città più bassa del mondo, nella depressione del Giordano, verso il Mar Morto e Gesù entra in questa città. E c'è un uomo basso, piccolo, ricco, vestito bene, che non riesce a vedere Gesù perché c'è troppa folla, tutti vanno da Gesù. E quest'uomo che nessuno però voleva incontrare perché era un pubblicano, abbiamo visto domenica scorsa, era un odiato esattore delle tasse. Nessuno, se non gli altri pubblicani, entravano a casa sua, nessuno. E allora lui, pur di vedere Gesù, sale su un albero, su un sicomoro, che diventa un bel alberone, insomma, grande. Un po' ridicolo quest'uomo, vestito bene, ne so, no? Così, forse anche importante, era il capo dei pubblicani, quindi un personaggio che sale su un albero. Vuole vedere Gesù, ma non sa che era Gesù che voleva vedere lui. E infatti Gesù gli dice, scendi subito perché oggi, che è un'altra parola chiave del Vangelo di Luca, oggi, devo fermarmi a casa tua. Vedete come fa Gesù? Gesù non lo rimprova, non gli dice, eh però Zaccheo, tu sei ladro, eh? Tu rubi i soldi alla gente, tu sei stato un delinquente, se non cambi vai all'inferno. Non dice niente di tutto questo Gesù. Gesù dice, oggi ti è offerta un'altra possibilità. Io vengo a casa tua. Dio viene a visitarti. Devo fermarmi a casa tua. C'è, bello questo verbo, c'è come questa necessità da parte di Dio, da parte dell'inviato di Dio, di andare a cercare proprio gli ultimi, i più lontani, i peccatori. Infatti tutta la gente dice, tutti mormoravano, è andato ad alloggiare a casa di un peccatore. Cioè tra tutta la gente brava che c'era a Gerico, Gesù va proprio a casa di Zaccheo. Ed è questo gesto, è questa vicinanza, è questo sentirsi non giudicato ma accolto che fa cambiare vita a Zaccheo, che gli dice, ecco signore, io do la metà di quello che possiedo ai poveri e se ho rubato, certo che aveva rubato, restituisco quattro volte tanto. Ecco, non sono le condanne, non sono gli strali che ci fanno cambiare vita, è l'essere voluti bene come siamo, con la nostra miseria, essere accolti anche col nostro peccato che ci fa desiderare di essere migliori. Il Signore ci guarda così e Gesù commenta, vedete, oggi, ancora questa parola importante, perché è oggi, non importa il tuo passato, non importa quello che hai fatto, importa che oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi per te c'è una possibilità di scrivere una pagina più bella della tua vita, perché anche lui è un figlio di Abramo, anche lui è un figlio di Dio, anche lui è un uomo amato e salvato dal Signore. Il figlio dell'uomo, infatti, che è Gesù, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Che bello, che profumo di Vangelo, Gesù viene a salvare ciò che è perduto e noi ci affidiamo proprio a Lui con ciò che abbiamo perduto e sprecato nella nostra vita.